Si svolgerà il primo luglio il Consiglio Comunale di Campobasso e le convocazioni partiranno domani. A presedere i lavori sarà il consigliere anziano Salvatore Colagiovanni. In quella occasione l'aula eleggerà il presidente del Consiglio che secondo indiscrezioni potrebbe essere un consigliere eletto nelle file del Partito Democratico che in occasione del ballottaggio si era schierato quasi apertamente con gravina. Intanto la composizione del Consiglio Comunale è definitiva, con l'ingresso in giunta dei quattro eletti Simone Cretella, Paola Felice, Luca Praetano e Giuseppe Amorosa si sono liberati altrettanti posti nella maggioranza perché gli assessori decadono automaticamente da consiglieri. In consiglio dunque entrano Paolo Adamo, Anna Petrecca, Monica Scoglietti e Nicola Giannantonio, cioè i primi quattro dei non eletti, la surroga in occasione della seduta del primo luglio. In sostanza su 32 candidati del Movimento 5 Stelle ne entrano in consiglio ben 24, una maggioranza robusta con numeri bulgari che non si ricordano nella storia recente di Palazzo San Giorgio. Nel frattempo, in attesa dell'avvio ufficiale della consigliatura targata gravina, emergono nuovi particolari sulla visita del vicepremier Di Maio a Campobasso. Al momento la sua presenza in occasione del Corpus Domini è confermata con l'arrivo in città alle 11.30. Di Maio dovrebbe incontrare i giornalisti nella sala della giunta, mentre l'ipotesi prospettata da gravina in un primo momento di non far affacciare le autorità dalla balconata, come accade da sempre, è stata scartata. Troppi problemi logistici e di sicurezza la manifestazione si svolgerà come da copione.